Volevo parlare un pochettino di scienza e vorrei incominciare sottolineando una delle caratteristiche essenziali della scienza è che la scienza deve basarsi su fatti ripetibili e quindi che le osservazioni scientifiche devono essere riproducibili e fatte più volte. Per esempio, se voi guardate questo orologio qua sopra, potreste pensare che l'orologio funzioni. Se lo guardate fra cinque minuti e quindi fate un'osservazione scientifica, vi accorgerete molto probabilmente che l'orologio è fermo e non funziona e che sta segnando l'ora esatta solo per caso. Spero che non vi parti a funzionare adesso. Allora, io volevo parlare un pochettino della scienza, delle motivazioni in qualche modo per cui si è creata questa grande struttura scientifica, questa impresa scientifica e quello che in qualche modo volevo concentrarmi era essenzialmente sulla scienza moderna, cioè la scienza moderna nel senso storica, nel senso di coloro che fanno gli scienziati in qualche modo per professione. Certo, le persone che hanno tanto tempo fa addomesticato il fuoco, hanno cominciato a capire come si potevano cucinare, che hanno capito come si poteva fare l'agricoltura e le semenze. Tutte le persone che hanno imparato a migliorare le semenze mediante selezione, mediante inclusi, all'allevamento, anche lì ad allevare, a migliorare le razze degli animali, questi hanno tutti scienziati. Però hanno tutti scienziati che sono rimasti completamente ignoti ai nostri giorni e quindi è difficile per me parlare di loro. Quello che io vorrei concentrarmi piuttosto alle motivazioni e all'organizzazione della scienza, un po' come la conosciamo adesso e come storicamente si è sviluppata. Allora, questo proposito volevo incominciare partendo da delle parole di Richard Feynman. Richard Feynman è stato uno dei più grandi scienziati del secolo scorso, una persona con interessi di tutti i tipi, per esempio è un ottimo suonatore di bongo che aveva imparato quando stava in Brasile, e infatti stava anche su uno dei cavi del carnevale a suonare musica, e che aveva sia un'aria molto scansonata e anche a volte provocatoria, e a questo punto, parlando della scienza, dice che la scienza è come il sesso, ha anche delle conseguenze pratiche, ma non è questo il motivo per cui la facciamo. Quindi è chiaro che questo è chiaramente il punto di vista soggettivo degli scienziati. D'altro canto, questa frase può essere messa, anche in maniera forse un pochettino irriverente, assieme all'imperativo dantesco, fatti non foste per vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora, dal punto di vista degli scienziati, la scienza è un enorme pazzo. E quello che succede, è come quando uno fa un pazzo, ogni volta che viene messo un pezzo al posto giusto, questo ha la possibilità di mettere altri peggio. E a questo punto, la scienza potete vederla come un mosaico gigantesco, ogni scienziato aggiunge una piccola tessera, e dal punto di vista del scienziato, questo è molto importante, perché ogni tessera che viene aggiunta a questo mosaico è un'acquisizione per sempre. Quindi a questo punto, uno scienziato ha la consapevolezza che nel fare scienza gli avrà dato un contributo, e quello che succederà, che anche quando il suo nome sarà dimenticato, il suo contributo rimane, e quelli che, come diceva Newton, che verranno dopo, si arrampicheranno sulle spalle di quelli che venivano prima. Infatti Newton diceva, se ho potuto vedere così lontano, è dovuto al fatto che mi sono arrampicato sulle spalle di giganti. Quali fossero questi giganti, se fossero i greci o Galileo, eccetera, non è chiaro bene sapere, però lui parlava certamente di giganti. E possiamo anche, in qualche modo, cercare di dare un'immagine di un'impresa scientifica, e molto bella, questo non è mia, e l'idea è che ci sono dei naviganti che sbarcano di notte in un'isola sconosciuta e accendono un fuoco sulla spiaggia e incominciano a vedere cosa che circondano, incominciano a vedere le cose più vicine, poi pian piano mettono un'altra legna sul fuoco e più la zona che è ben visibile diventa più grande perché il fuoco diventa più forte, ma al di là della zona illuminata, cioè si intravede una zona misteriosa che ovviamente più legna diventa sul fuoco, più la zona misteriosa diventa chiara, ma appare dietro una zona misteriosa ancora sempre più grande alla metà del falò. Quindi questo vuol dire che più esploriamo l'universo, più scopriamo delle nuove regioni di esplorare. E ogni scoperta ci permette di formulare tantissime nuove domande che prima non eravamo in grado assolutamente di formulare. Credo che il fatto che le galassie siano fatte di stelle sia una scoperta che abbia un secolo, circa poco più di un secolo, è chiaro che prima, e che il fatto di aver scoperto le galassie come composte da stelle, quindi essersi reso conto dell'immensità dell'universo, ci permette di fare tutta una serie di domande che prima non erano assolutamente possibili fare e a questo punto in qualche modo ci rendiamo sempre più conto della nostra ignoranza su certe cose di cui non ci potremmo fare. Allora queste sono delle considerazioni generali dal punto di vista dello scienziato che spiega perché lo scienziato si sente interessante e interessato a voglia fare scienza. D'altro canto, se voi pensate al numero di persone che passano, non tutta la vita, ma una certa quantità di tempo a fare dei puzzle per divertirsi, è chiaro che fare un puzzle di questo tipo in cui collaborativo o su scala dei secoli, è chiaro che sia qualcosa che possa affascinare le persone. Ma e anche c'è un certo divertimento che uno può avere nell'effettuare la scienza. C'era il mio maestro Nicola Cabibbo, diceva che spesso quando discuteva cosa fare, perché dovremmo studiare questo problema se non ci divertiamo. Quindi in qualche modo la scelta, uno scienziato può avere scelta di vari problemi da studiare e a secondo delle cose che in qualche modo delle sue attitudini, di quello che lui trova più o meno divertente, più o meno interessante, sceglie un certo tipo di cose o un certo tipo di problemi. Mi ricordo un caro amico mio, Aveglio Grillo, che spesso commentava, appena era reato, fare il fisico è una faticaccia, ma è sempre meglio che lavorare. In qualche modo c'è quasi uno sopore che stiamo pagati per fare proprio le cose che uno vuole fare. Quindi è un mestiere da questo punto molto privilegiato. Ora, però bisogna tener conto che se uno guarda la storia, ci sono ovviamente degli scienziati che erano di famiglia agiata e che si potevano permettere di fare la loro ricerca nei lunghi periodi di ozio, ozio nel senso di ozio in latino. Basta pensare per esempio a Plino il Vecchio, affermà che faceva il giudice e a tempo perso faceva il matematico. Ma a parte questi casi rari, lo scienziato ha sempre avuto il problema di trovarsi da mangiare. E le applicazioni in qualche modo della scienza erano fondamentali in questo scopo. Allora, se pensiamo alle applicazioni, uno può pensare a una delle prime scienze in ordine di tempo, l'astronomia. Allora, l'astronomia uno può pensare che sia una scienza che non ha applicazioni pratiche. In realtà, però, sin come noi viviamo in città ben illuminate, qui siamo abituati ad avere controllo della luce, abbiamo una luce artificiale che ci permette di vedere la notte. Le crisi di Luna non ci fanno certamente paura, però in una situazione di 2000-3000 anni fa, in cui non c'era la luce, l'eclissi di Luna, fenomeno non ben spiegato, certamente era qualcosa di impressionante, per non parlare del terrore che potevano causare le crisi di Sole. Essere in grado di predire questi fenomeni, le crisi di Luna, le crisi di Sole, spostarsi, ma anche lo stesso avvicendarsi delle stagioni, sapere quando il Sole incomincia a crescere, a salire prima, a sorgere prima, o quando il Sole incomincia a sorgere dopo, faceva parte di un prestigio, dava certamente un prestigio allo scienziato e un prestigio al potere politico, al re o al principio che per lui, che poteva annunciare questi fatti. Quindi quello che succede, che c'è un forte legame, c'è sempre stato un forte legame fra la scienza e le sue possibili applicazioni, applicazioni che possono essere, come in questo caso, semplicemente applicazioni che portano prestigio alle persone, perché è chiaro che predire le crisi di Luna non ha vantaggi pratici, ma poter annunciare domani, se stanotte ci saranno le crisi di Luna, prima, è chiaro, è qualche cosa che rende, dava prestigio, importanza al potere che poteva farlo. E ovviamente le motivazioni dei mecenati potrebbero essere solo culturali o anche di prestigio sociale, però agli scienziati certamente, per esempio, basta pensare, sta pensando ad Aristotile che è stato il progettore di Alessandro Magno, quindi a questo punto è chiaro che le due cose, il rapporto fra potere politico e peso culturale, chiaro, erano molto importanti all'epoca, ma poi si pensa anche alle applicazioni pratiche. che se incominciamo a pensare all'inizio della scienza moderna, pensiamo a Galileo. Galileo incomincia a vedere, a guardare col cannocchiale fuori dalla Terra, rivolge il cannocchiale al cielo e una delle prime cose che scopre e sono i satelliti di Giove. Scoperta assolutamente inaspettata e che poi ha delle conseguenze concettuali profonde, perché questo vuol dire che Giove nell'interpretazione copernicana è un piccolo sistema solare, non solo, ma poi c'è l'idea in qualche modo della gravitazione multicentrica, anche se Galileo non ne parla in maniera esplicita, ma che Giove abbia una capacità di attirare come ce l'ha il Sole e quindi anche la Luna è stata elita e quindi tutto il fatto che nel cielo si riflettono le stesse cose che avvengono sulla Terra, ma una delle prime cose che Galileo si domanda è come applicare la scoperta dei satelliti di Giove, come fare un'applicazione pratica. Allora, i satelliti di Giove forniscono un orologio assoluto, perché sono osservabili da tutta la Terra, ovviamente di notte quando non ci sono le nuvole, e questi satelliti girano intorno a Giove e c'è un momento in cui vengono occultati da Giove. Quindi è un momento molto preciso in cui avviene questa occultazione e questa occultazione fornisce, come dicevo prima, un orologio assoluto. Gli orologi assoluti non esistevano all'epoca perché se uno provava a portarsi l'orologio appresso per tre mesi in nave nell'America o nell'oceano indiano, è chiaro che l'orologio non sarebbe andato preciso, ma se voi sapete l'ora assoluta e sapete la posizione del Sole, potete determinare qual è la longitudine. Determinare la longitudine è chiaro che è fondamentale per per la navigazione perché se voi state a metà dell'oceano Pacifico potete non avere più l'idea, specialmente se siete stati portati da una tempesta di quale di quale sia la longitudine e quindi Galileo dice benissimo che i satelliti di Giove se si facciano delle tavole possono funzionare per determinare la longitudine. L'applicazione non fumo mai usati veramente per fare questo scopo perché la cosa era un po' troppo macchinosa richiedeva portarsi i telescopi in mezzo al mare e poi bisognava beccare proprio il momento preciso dell'occultazione dei satelliti di Giove non aveva nuvole in quel momento e così via ma quello che è interessante è che Galileo pensa subito a un'applicazione pratica delle scoperte e questa applicazione pratica delle scoperte varanti e ovviamente per esempio Tartaglia Torricelli scusate mi confondo sempre Torricelli e un'introduzione a un libro in cominciare dice essenzialmente che lui vuole studiare gli oggetti che si muovono con velocità costante orizzontalmente e con accelerazione costante nella verticale cioè gli oggetti che normalmente diciamo hanno un'inerzia poi vengono accelerati dalla forza di gravità ed è chiaro a Torricelli che queste cose possono essere applicate potrebbero potrebbero essere applicate le palle di cannone anche se lui dice ma se poi le palle di cannone non seguono esattamente questa legge loro danno non parleremo di esse però l'idea che le leggi del moto e le palle di cannone avessero qualcosa da che vedere l'uno con l'altro chiaramente è fondamentale allora allo scopo di coordinare la ricerca scientifica nel 6-700 vengono fondate molte delle accademie scientifiche che dominano ancora la scena scientifica per esempio abbiamo l'Accademia dei Lincei che è stata la prima grande accademia che è stata fondata nel 1603 da Federico Ceisi e poi di cui poco subito dopo fa parte Galileo Galileo abbiamo la Royal Society nel 1646 abbiamo l'Accademia des Sciences francese nel 1666 e poi abbiamo l'American Philosophical Society che è stata fondata nel 1743 l'American Philosophical Society è molto interessante in quanto fu fondata da Benjamin Franklin con lo scopo dichiarato di promuovere la conoscenza utile useful knowledge quindi è bello come si parli di di Philosophical Society e poi la conoscenza utile che è la scienza e è stata un'Accademia che adesso è abbastanza oddio mio nome non è nota come la National Academy of Science è un'Accademia un pochettino più è una società un'American Philosophical Society una società un pochettino più piccola però ha avuto una una storia molto importante e infatti il secondo presidente degli Stati Uniti di cui adesso mi sto dimenticando il nome dopo aver fatto i primi degli Stati Uniti è stato per 15 anni presidente di questa American Philosophical Society commentando dicendo che è stato il lavoro più importante che aveva fatto in vita sua allora poi ovviamente questo è nel Settecento poi abbiamo la rivoluzione industriale la rivoluzione industriale si basa moltissimo su principi su principi della fisica la fisica con le macchine di Carnot con tutta la teoria della termodinamica diventa fondamentale per quanto riguarda per quanto riguarda la teoria delle macchine al vapore ma non solo la teoria delle macchine al vapore la sintesi dell'ammoniaca è fatta essenzialmente basandosi la sintesi ammoniaca fatta alla fine dell'Ottocento inizio del Novecento è assolutamente basata su tutti i principi della fisica e della chimico-fisica e la sintesi dell'ammoniaca è stata fondamentale per vari motivi uno diciamo uno voi sapete che in natura esiste l'azoto questo azoto sta nell'aria e però non solo sta nell'aria fa parte delle proteine è chiaro che per poter crescere un essere umano come tutti gli altri animali vegetali hanno bisogno di proteine hanno bisogno di aminoacidi hanno bisogno di azoto non come quello che sta nell'aria ma legato chimicamente e questa sintesi dell'azoto viene fatta da un certo numero relativamente piccolo di batteri i quali batteri forniscono tutta la materia di base fornivano tutta la materia di base per le proteine animali e vegetali la sintesi dell'ammoniaca permette di far portare questo azoto che sta nell'aria e poterlo portare in una forma che sia utilizzabile dalle piante e poi successivamente dagli animali la sintesi dell'ammoniaca ha permesso da un lato di fare fertilizzanti in quantità enorme ed è stata alla base del fortissimo aumento della popolazione che c'è stato nel novecento ed è stato anche alla base della possibilità di fare di sostenere la prima guerra mondiale dei tedeschi ma perché l'ammoniaca fatta con la sintesi permetteva di fare le munizioni e quello che non nomino a cazzo la prima guerra mondiale perché la prima guerra mondiale è stata in qualche modo connessa all'inizio della al primo inizio della grande scienza cioè una delle tragedie della prima guerra mondiale è stata l'eprita l'eprita fu utilizzata dai tedeschi sui campi della città di Ypres è un terribile è un terribile veleno che furono morte di qualche migliaio di persone in quell'occasione e quello che è meno noto è che l'uso dell'eprita è assolutamente non banale dal punto di vista scientifico perché bisognava sintetizzarne in grande quantità e per far questo si mobilitavano cinque futuri premi Nobel tedeschi di cui vi spavio il nome quindi l'eprita la produzione di massa dell'eprita è stata praticamente l'inizio dell'entrata in guerra degli scienziati tedeschi che gli scienziati tedeschi incominciano a lavorare a lavorare in maniera e la scienza tedesca incomincia a lavorare per le armi belliche ovviamente questo fatto immaginatevi una situazione in cui non ci sono informazioni di quello che succede dall'altro lato non è chiaro dal lato occidentale quale future sorprese possa riservare la chimica tedesca questo causa dall'altro lato dall'altro occidentale l'idea che bisogna assolutamente mobilitare gli scienziati degli alleati per cominciare a utilizzare le scoperte scientifiche a scopi militari a questo punto vengono fatti tutta una serie di coordinamenti occidentali sul scusate non occidentali vabbè diciamo degli alleati franco italiani franco italiani inglesi principalmente perché le pronunciano gli americani su cui il nostro presidente Vito Volterra nostro dell'Accademia Vincè e futuro presidente dell'Accademia Vito Volterra diventa estremamente attivo viene fondata la Cire il committente nazionale della Cire alleato che incomincia a coordinare tutti gli sforzi bellici dal lato degli alleati fortunatamente non si arriva a armi di istruzione di massa come le prite però questo segna un enorme interesse appunto dei governi nella scienza rimane chiaro alla fine della guerra che la scienza ha un forte impatto anche sul non solo sulla tecnologia e sulla produzione industriale ma anche sulle armi e quindi diventa fondamentale per gli alleati organizzare la scienza nei rispettivi paesi e come il Cire questo comitato internazionale della ricerca di cui Volterra è uno dei vice presidenti diventa rimane dopo la dopo la guerra e alla fine alla fine nel viene sotto la spinta di Volterra viene costituito il e viene costituito il CNR in Italia proprio al scopo di interfacciarsi con questo comitato internazionale per la ricerca quindi c'è dal lato il comitato internazionale della ricerca e dall'altro in Europa e in Europa diciamo senza la Germania e c'è un comitato nazionale per la ricerca in Italia fatto spinto da Volterra e fortemente appoggiato dall'attuale presidenza del consiglio e ovviamente il CNR non si occupa di cose belliche durante la sua attività fortunatamente o si occupa in maniera marginale ovviamente si occupa di radar e cose di questo genere che sono fondamentali per certi tipi di non di radar scusatemi di un deratio di radar è un'altra cosa e quello che succede però rimane a un livello abbastanza modesto la seconda guerra mondiale veramente è il momento in cui nasce sul serio la grande la grande la grande scienza e da un lato ci sono le 50.000 persone che lavorano nei vari laboratori fallo salamos e nei vari laboratori sparsi attorno alla costruzione della bomba atomica ma a parte questo progetto che ovviamente è noto a tutti quello che forse è un po' meno noto ovviamente è che c'è un grande sforzo di coordinare gli sforzi tentativi di coordinare gli sforzi bellici in cui c'è il consigliere del presidente del presidente americano per la scienza Vannevar Bush che coordina il lavoro di 6.000 scienziati su tutti i problemi riguardanti la guerra la produzione di armamenti la produzione agli aerei e così via quindi nasce quest'idea di scienza che deve essere anche negli Stati Uniti che deve essere in qualche modo trainata dallo Stato e Vannevar Bush è la persona che nel dopoguerra spinge fortemente per la creazione di tutte e per il grosso finanziamento delle attività civili a questo punto sulla ricerca vannevar Bush una persona è uno scienziato estremamente interessante aveva avuto varie idee fra cui aveva una qualche cosa che potrebbe ricordare Google come tipo di cosa ricerche automatiche di informazioni per loro le raffarese in maniera analogica non essendoci computer dell'epoca e però in questo modo parte la parte la la grande parte la grande scienza e quello che succede che in in Italia adesso se arriviamo ai giorni d'oggi il settore delle ricerche e sviluppo assorbe poco più dell'1% in Italia ma in altri paesi tipo la Corea del Sud arriva al 4% cosa che quindi quello che noi dobbiamo ricordarci che la Corea del Sud non solo ci ha eliminato dai mondiali nel 2002 ma anche spende 4 volte di più dell'Italia in ricerca e sviluppo e quindi questo è segnale del fatto che non solo la Corea del Sud ci batterà a calcio nel futuro cosa che forse non è connessa ma anche anche in altre cose e c'è diventa a questo punto la ricerca e il sviluppo diventano trainanti per 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 progresso industriale industriale di un paese e cosa che a volte non tende a tende a dimenticarsi mi ricordo una volta che avevamo stati ricevuti con altri scienziati da Napolitano quando era presidente della Repubblica non ricordo più in che occasione Napolitano ci disse che aveva parlato con la Merkel che è venuta in in Italia o lui è andato in Germania non so in che occasione e quella gli aveva detto ma scusate perché voi si lamentate che voi che il vostro il vostro pil sale meno di quello tedesco noi spendiamo spendiamo il 2% del pil e il 3% del pil in ricerca e sviluppo voi siete siamo passati al 2 al 3% voi siete rimasti all'1 e l'avete voluto voi che servendete con noi quindi è chiaro che c'è anche se non tanto fosse sui politici nostri questa fortissima relazione tra ricerca e sviluppo allora è chiaro che la scienza in questo momento deve essere finanziata fortemente della società e quello che devo dire è che alla società non importa un fico secco se gli scienziati si divertono o meno questo questo punto di vista è stato espresso nel passato per esempio c'è una bellissima citazione di Bukharin nel 1931 che dice l'idea che la scienza si affine a se stessa è ingenua essa confonde le passioni soggettive dello scienziato professionista di cui io ho parlato prima che il lavoro è un sistema di divisione e lavoro assai spinto con il ruolo sociale oggettivo di questo genere di attività in quanto è un'attività di importanza pratica è chiaro che non è pensabile lo sviluppo tecnologico di adesso senza un parallelo avanzamento della scienza pura la scienza pura non solo fornisce alla scienza applicata le conoscenze necessarie per potersi sviluppare linguaggi metafori quadri concettuali ma anche un ruolo più nascosto e non meno importante infatti le attività scientifiche di base funzionano anche come un gigantesco circuito di collaudo di prodotti tecnologici e anche di stimo di consumi di beni ad alta tecnologia avanzata basta pensare internet che è stato introdotto che è stato introdotto in ambiente scientifico al CERN per trasmettere i dati dagli Stati Uniti scusi il linguaggio HTLM scusatemi è stato introdotto a questo scopo come per esempio i primi grossi consumatori di CDC delle macchine fotografiche sono stati gli astronomi che avevano bisogno di CDC per l'astronomia e va bene allora questa profonda integrazione tra scienza e tecnica potrebbe far pensare che la scienza abbia un futuro radioso assicurato in una società che diventa sempre più dipendente da tecnologia avanzata in realtà se noi guardiamo attorno sembra il contrario vediamo scendenze antiscientifiche nella società attuale il prestigio della scienza e la fiducia in essa stanno diminuendo velocemente aumentano le pratiche astrologiche e omeopatiche antiscientifiche che si diffondono largamente insieme a un vorace consumismo tecnologico e non è facile capire in fine in fondo l'origine di questo di questo fenomeno c'è anche l'impressione che a volte questa sfiducia di massa nella scienza che sta aumentando cioè è molto più forte adesso che vent'anni fa sia dovuto anche a una certa arroganza a una scarsa simpatia del modo in cui gli scienziati si presentano in cui cercano di presentarsi come portatori di una sapienza assoluta rispetto agli altri saperi opinabili e a volte quindi sbandierano un'eccessiva sicurezza davanti un'opinione pubblica che ne avverte la parzialità di vedute e limiti a volte ci sono dei cattivi divulgatori che presentano i risultati della scienza quasi come fosse una superiore stregoneria in cui le motivazioni sono comprensibili solo agli iniziati e in questo modo chi non è scienziato può essere spinto a una posizione razionale di fronte a una scienza percepibile come magia inaccessibile e quindi preferire altre speranze razionali perché se la scienza diventa una psodomagia allora è meglio la magia vera piuttosto che un'imitazione e a questo punto non dobbiamo confidare cercamente nell'inelettabilità del bisogno che lo sviluppo tecnologico e lo sviluppo scientifico può essere uno tragico errore i romani hanno conservato moltissimo della tecnologia greca senza conservarsi della della scienza greca e i fanatici cristiani comandati dal santo vescovo e padre della chiesa civillo di Alessandria hanno tranquillamente fatto a pezzi la matematica astronoma ipazia senza curarsi affatto delle conseguenze a lungo termine non ratti anzi rallentandoci dalla scomparsa di un sapere profano ritenuto non solo inutile ma anche dannoso e anche se a livello planetario la scienza forse continuerà a svilupparsi a trascinare la tecnologia non c'è nessuna garanzia che questo avvenga in un paese come l'Italia che in cui abbiamo visto che c'è stata un'enorme industrializzazione negli ultimi 50 anni assistiamo in Italia al lento decadere della scuola pubblica a un investimento disinvestimento dell'impegno finanziario nei beni culturali il restauro del Colosseo è stato possibile solo su fondi privati cose del tutto sconnesse con la scienza ma non con la cultura il fondo unico per lo spettacolo per lo spettacolo e si è dimezzato negli ultimi 20 anni quindi tutte le attività culturali in Italia sono in lento ma costante declino e dobbiamo difendere la scienza questa è una cosa importante non solo per i suoi aspetti pratici ma dobbiamo difendere anche per il suo valore culturale e c'è una bellissima citazione di Robert Wilson Robert Wilson è uno dei scienziati americani del secondo dopoguerra che organizzò la costruzione delle grandi macchine acceleratrici negli Stati Uniti e nel 1969 di fronte a un senatore americano che insistemente chiedeva quali fossero le applicazioni della costruzione dell'acceleratore di Alfemi Lab vicino a Chicago perché il senato americano doveva finanziare il progetto quindi voleva sapere a cosa serviva in particolare gli chiedeva se fosse utile militarmente se fosse utile per il paese se fosse utile per aumentare l'economia Bob Wilson risponde il suo valore sta nell'amore per la cultura e come la pittura la scultura la poesia come tutte quelle attività di cui noi americani siamo patriotticamente fieri non serve per difendere il nostro paese ma fa che valga la pena difendere il nostro paese quindi è una difesa della scienza come parte della cultura ed è estremamente importante e questa è estremamente importante ma bisogna fare rendere conto a popolazione almeno quella colta di che cos'è la scienza e far capire che la scienza e la cultura si intrecciano l'una con l'altra sia nel loro sviluppo storico sia nella pratica di tutti i giorni bisogna spiegare in maniera non magica cosa fanno gli scienziati viventi quali sono le sfide dei nostri giorni non è facile specialmente per le scienze dure dove la matematica gioca un ruolo essenziale ma tuttavia con un certo sforzo si possono rendere ottimi i risultati spesso si dice che le scienze dure non sono comprensibili per chi non ha studiato la matematica però se uno riflette c'è lo stesso problema con la poesia cinese la poesia cinese è un miscuglio inseparabile di letteratura e di pittura il manoscritto originale della poesia è un quadro dove singoli ideogrammi cinesi sono elementi pittorici che vengono rappresentati ogni volta in ogni poesia in maniera differente questa dimensione pittorica della poesia cinese si perde completamente nella traduzione e la sua bellezza la bellezza dell'originale scritto in cinese scritto dal poeta perché quando viene riprodotta la poesia viene spesso riprodotta con la calligrafia dello stesso del poeta si perde completamente nella traduzione e non è apprezzabile a chi non conosce bene il cinese però è certamente possibile apprezzare in italiano la bellezza della poesia cinese anche se si perdono delle cose e quindi nello stesso modo è possibile far comprendere la bellezza delle scienze dure anche a chi non conosce la matematica e chi non ha fatto gli studi scientifici non è facile farlo ma è possibile farlo ed è chiaro che iniziative come queste giocano un ruolo fondamentale perché permettono di mettere assieme scienziati di scienze diciamo dure e soffice con umanisti e in maniera tale di poter inserire la scienza nella cultura e permettono a persone di avvicinarsi alla scienza moderna è chiaro che la scuola a questo punto di vista gioca un ruolo fondamentale perché la scienza deve essere presentata in maniera viva alla scuola non in maniera noiosa come diceva Lamberto perché se viene presentata in maniera noiosa è la fine e c'è un mondo intero da affrontare su questo punto di vista di cercare di muoversi in queste direzioni bisogna fare di più bisogna fare molto di più non è stato fatto fino adesso e credo che in parte la colpa sia anche degli scienziati che non possono sfuggire a questa responsabilità se non si muovono in questa direzione va bene vi ringrazio moltissimo ringraziamo effettivamente grazie il professor Parisi per questi stimoli che ci ha dato per queste parole così importanti e noi vogliamo fare in modo che non solo il nostro paese ma la nostra umanità sia linea di essere difesa che valga la pena difenderla e cioè che siano conservati quei tesori che vengono a parte del panorale statunichese per queste tesori la ringraziamo veramente davvero il cuore e speriamo che ne possa tornare spesso in questa sala grazie grazie il gnazio adesso farà una breve traduzione e poi dopo dovremo fare delle domande o degli interventi quindi il gnazio che mi diceva integrato a decine di minuti e poi se dovete preparare anche degli interventi potrete fare a decine di minuti e poi se dovete fare un po' che si è e io ho grattisato a più o meno i professori e i professori dell'Accademia di Muzione che vengono che abbiamo potente affeggiare, che abbiamo apprezzato, certamente non per singulare, certamente fortissima, che abbiamo avuto l'idea del suo modo digitale, di fondere altre utilità scienti ai naturali. Ma il professor ha detto che scienti ai naturali non sono fortissimi, ma esame, querem etiam i homines, qui igmem ex intrigati ad homoerunt, quid ex terra fruques et perrepotuerunt, quid coenerunt oves et pecora ingreghes, e in dell'utilità del quandam viene l'immunico. E beveut, querem etiam i, all'incomodo filosofi naturali, ma esame, etiam i scienti, quidam, quidam, quidam sunt obibione, ormino obliterati, proprio da quod anonisime di manes. e manserunt. Itaque professor locutus est potissimum de recentissimis partibus historiae scientiae. Et ut ordiretur novis collaudabit sententiam, cui usam filosofi naturalis, nomine Riccardi Freiman, quidam, et dixit, satisfacete, quidam, dixit, scientiam naturalem esse propemodum tamquam amorem benereum, tamquam benerem esse, scilicet nos perciperex ea quadam utilitatem, sed plerumque homines non exercent tantum modo utilitatis causa. Et aeces causa, cur etiam, conjungatur satis bene, haec sententia, dicamus, potius facete dicta, cum dictis Ilius Dantis, poetae Italorum egregii, cui, ut bene novistis, dixit egregie, vos non estis facti, hoculixes, non e dicit, non estis facti, non nati estis, ut vitam ageretis tamquam belluai, sed potius nati estis ad virtutem et ad cognitionem. Et ergo est aliquis momenti distinguere cognitionem ab utilitate in scientia naturali. Scientia naturalis est paene opus musivum quodam, dixit professor. Opus musivum, inque quaeque tesella, quaeque pars in opere, facit ad totum conspectum. Et Ili cui veniunt postea, posunt etiam uti, illis tesellis quae sunt ante apositae. Et aeces causa cur Newtonius exempli gratia, cum reperta sua egregia compleviset, dixisset, ut iam olim dictum erat media etate, se id consequipotuisset quodam supersedisset tamquam nannus in umeris gigantium. Nam, ille respiciebat ad omnia illa reperta, atque inventa, quae gradatim erant in hoc opere musivo, quod est scientia naturalis collocata. Ceterum pulcre etiam professor, usus est imagine quodam, ut nobis describeret, hanc paene perpetuam viam scientificam. Nam nobis proposuit omines qui in quodam insula parvatque obscura, habitarent, et in media insula ece omines acendunt ignem, ita ut posent profligare tenebras. Et ignis ece acensus est, et certe lustrat lumine suo aliquam partem eius insulae, set tamen manet in tenebris alia pars insulae. Et si aduntur flamai flammis et ignis crescit, certe pars co lustrata lumine erit semper maior, sed eo maior erit, quasi circunferentia ilius circuli, lumine lustrati, et itaque ignorantia etiam erga mundum universum hominis, quo cognitio crescit, illa coque crescit una cum cognitione. Et ergo haec via perpetua, qua quo magis dischimus, magis etiam reperimus, quasi mysteriam mundi universi, est pars qua edam potissima scientiae naturalis. Quod ad utilitatem in scientia pertinet, o portet considerare non semper scientiam naturalem fuise a prime conjunctam cum utilitate. Considerate exempli gratia veteres Babylonios etiam graecos, quiquidem contemplabantur caelum et admirati defectum lunae, defectum solis, certe quere ban causas. Quae tamen causae non erant conjunctae cum utilitate. Erant conjunctae fortase cum quodam honore, cum quodam fama, nam sicquis quasi vates et sacerdos disciplinarum naturalium poset praedicere eclipsin, id est defectum solis, defectum lunae, sane suma in admiratione abebatur. Et ergo non erat utilitas, sed onos cui alebat as artes primitus. Aristoteles exempli gratia, quia Alexandrum magnum instituit, hoc sane fecit propter ilam admirationem et honorem quo polebat apud plurimus. Ergo etiam haec admiratio et onos scientiarum, non unquam fuit conjunctus etiam cum repolitica, cum potestate, non necessario cum utilitate. Tamen in partibus recentioribus historiae scientiarum, ecce possumus iam agnoscere quodam studium utilitatis. Exembrigata cum Galileus ille tubum opticum, id estelescopium convertisset ad caelum primum, et admiratus conspexisset illas lunas stelae jovis, lunas mediceas, quas ille appellabit, primum quod cogitabit fuit quomodo posset illud novum repertum, convertere ad utilitatem. Et quepit credere posse per contemplationem lunarum jovis, nautas, exempli gratia, facilime posse, aut facilius altem posse, in navigando locum et latitudinem ubi essent agnoscere. Non reapse deen factum est ut nautae unquam adiberent talem rationem, sed ecce hoc est magnim momenti, Galileum cogitavisse statim de utilitate quam possit ex hoc novo reperto assumere. Item Torricelli cum leges motus, motum investigaret, sensit pose has leges, congiungi exempli gratia cum motu bombardarum, cum motu pilarum quae ex bombardis elliciuntur, et etiam si, dixit, non necessario congiungantur, tamen magnies momenti in teligere posse congiungi. Et ergoes codam studium utilitatis, codesta alicomodo novatum in ultimis partibus, in recentissimis partibus historiae scientiae. Bene, den ut patet nobis narrabit professor diversos, diversas conditiones academiarum, ut exempli gratia hic in Italia, inter primas academias europeas scientiarum, quae fuit academia linkeorum, scilicet a Friderico Cessi, anno milesimo sexcentesimo tertio condita, cuius particeps fuit sane Galileus ille. den etiam regia illa societas filosofiae britannica, millesimo sexcentesimo quadragesimo sexto constituta, et etiam americana filosoforum societas, quae condita est anno milesimo septingentesimo quadragesimo sexto, benjamino illo Franklin, quiquidem apertis, dixit, usum, velpotius propositum, huius academiae esse operam colocare in scientis utilibus. Ergo e che apertis in, bene, constitutione illius academiae, tota res vertitur ad utilitatem. Videretur ali comodo, etiam, quo utilitas crescit in scientis, aud perceptio utilitatis, etiam ali comodo oblectatio et libera investigatio minui. Diceva tretem facet professor, dictum esse olima codam fisico, esse opus fisici, esse valde, comodicam, magnam fatigationem parere, sed tamen melius esse quam operam dare. Non ides, ut digeret fisicos, sae pe, et omnes omines, qui scientiam colunt, percipere sumam oblectationem, et non necessario ex utilitate, hanc oblectationem percipi, sed ex libera quadem investigatione. Sed quo utilitas, in scientis est maxime propagata, ut patet, locus velp tempus sum, in momenti fuit, eversio illa macinarum, quae maxima est provecta, propteria quod macinae quae viva poris impelluntur, quae perunt in usum omnium paene hominum, et ab generandas etiam res ad iberi. Itaque, versio illa macinarum est paene lapis miliarius, huius processus, sed etiam seculo preterito, pro dolor saebe etiam haeque ex consilis non it approvis manant, seculo preterito, cum velum omnium gentium prius conflagravisset, nam ece inter illud velum, primi cemici germanorum, potuerunt confingere arte ipritem, ipritem, gas illud ut it adicam piperatum, quod maxime ad iberunt in vello et in castris germanorum, et ece hoc modo possumus paene animadvertere ingressum cemicorum ad arma. Et ut patet, maximo temore perculsi, etiam confederati, confederatae nationes, vel potius hostes germanorum, queperunt etiam illi ad iberi scientias ad utilitatem bellicam. Et post hoc, utilitas in rebus scientificis, est maxime in aperto proposita, et facta est quaidam contentio, quaidam quodam paene certamen, ut possim, ut possent homines, quam plurimam utilitatem, presertima defendendam terra, et ad arcendos hostes, percipere ex scientis, naturalibus dico. Bene, etiam ut patet illis propemodum temporibus, paulo post, et sua dente volterra, est conditum CNR, hic in Italia, ed est institutum abda investigationes scientificas propositum, et hic posmus etiam videre, comodo gradatim, quaeque in civitate, instituta eo convertantur ut scientia, posit in usum venire societatis humanae. Ita factum est, ut pecunia maxima, ut patet, collocetur in his rebus, quia ad profectus societatis humanae, congiungitur cum cognitiones scientifica. Tamen, et hoc is mirabile dictum, se tamen hoc non necessario significat honorem et famam scientiarum naturalium, augeri. Quidim professor Nobis dixit, nunc temporis, cum nemo non videat usum et utilitatem scientiae in vita quotidiana, tamen mirum in modum, plerique homines, incipiont difidere scientiae naturali. Quasi agatur dequadam mira, magia, quam non posmus bene inteligere, aut quasi propterquandam superbiam, corundam scientificorum, videatur tamquam responsum et sententia absoluta, ad omnes res, ad omnes partes vitae, contractandas, atque tractandas. Et ergo, mirum in modum, isti profectus scientiae naturalis, aliquomodo pererunt, aliquam diffidentiam. Et, mirabile dictum, nunc temporis, etiam honos, et etiam pondus, scientiarum, ma, mirum in modum periclitatur. Periclitatur, quia augentur superstitiones hominum, augetur difidentia, augentur quasi desperationes ergas scientiam. Et, fiunt paradoxa nostri saeculi, quo homines plurimum adibent artem technicam in vita quotidiana, sede minime credunt per scientiam naturalem, se pose quaidam responsa ad vitam et conceptum mundi invenire. Et hoc non est, dicamus, non est, non est, non est credendum necessario scientiam naturalem, quae ratione escondita necessarium pose prevalere, quasi impetu quodam naturali, supra vires irrationales hominis. Considerate exempli gratia, quod omnes vos bene no vistis, hipatiam mathematicam, esse internecatam a Cirilo, eiusque, sectatoribus, et etiam si illi non intelexerunt, neque cogitaverunt, quanto damno poset esse, nex, huius feminae, et una cum ea, etiam, nex, alicomodos, scientiae, matematicae, quae tun temporis vigebat, maxime, apudu platonicos filosofos, non cogitaverunt, quasi ducti affectibus, irrationabilibus, ducti timore, quanto malo posint pare de hoc modo. Et eque, hoc es monumentum, alicomodo, etiam nobis, quod non necessario, non naturaliter, lumen rationis, prevalet, supra tenebras irrationales, in societate humana. Tambien, est alia res, consideranda, in scientis naturalibus, nam num multum, locutus, est professor de utilitate, scientiarum. Sed, tota, eorum dignitas, non est posita in sola utilitate. quinn immo, veri pervestigatores rerum naturae, illi cui vere animo pervestigant, adque perscutantur has res, prove intelegunt, respicientes non modo ad historiam, filosofiae naturalis, sed etiam ad pondus intrinsecum in illis, scientias naturales, esse etiam partem, cultus et humanitatis, cuiusque terrae. fuit enim, quinnam, scientificus americanus, qui olim interrogatus, quantum posset, scientia naturalis, defendere civitatem, more bellico, paene indigna bundus, respondit, non hoc est, quodo portet, non hoc modo defendit, scientia nos, non quia auget moenia, et nobis parit multa arma, sed potius defendit nostrum cultum, defendit nostram humanitatem, et etiam nostrum futurum, quia intelegimus per eam, hanc conjunctionem, de qua saepe sumus locuti, esse veram et genuinam, inter cultum humanitatem, studia literarum, et scientiam naturalem, quae sane mana text ratione, et quae semper es culta, cogitate de Newtonio, de Galileo, de Ticone Brahe, de multisalis, pre claris astronomis, et scientificis, qui simul potuerum, quasi ut racque manum, tractare et, studia humanitatis, et scientias naturales, non itaque intercese pugnant, sed conveniunt, et oportet convenient, si volumus etiam efficere, ut homines, ut homines fortase profani, qui non penitus noverunt, theoremata matematica, tamen posin percipere, et delectationem, et pondus, scientiae naturalis. hoquidem potissimum, est officium, ipsorum scientificorum. Nam, sanes, ae pedicitur, sed, ut quis bene intelegat, et posit, quasi admitim, penetralia, scientiae naturalis, debet primum omnium, esse eruditissimum, mathematices. erat enim, scrivnum etiam, iam in academia platonica, ut bene novistis, a geometretos medeisei sito, quis quis est experts artis mathematicae, abeat hinc, tamquam profanus. Tamen, idem dicendum est, exempli gratia, de arte poetica sinica, si quis velit vere percipere, atque degustare artem, quae continetur in poematis sinicis, debeat bene novise cultum sinicum, debat sane novise linguam sinicam, debat etiam percipere pulcritudinem, quae est in singulis ideogrammatis, al podius, in singulis imaginibus, in singulis tipis, quibus constante ila poemata, sed, et ut patet multa interpretationem, et, dicamus, multa ex fonte per interpretationem, multa amituntur, sed hoc non impedit, cominus nos, bene, saldem ego, profanus linguae sinicae, posim percipere etiam, et degustare, aliqua lumina preclara, quae continentur in e arte. Eo de modo, in doctrinis cientificis, sane, si quis velit ad penetralia usque pervenire, debeat bene novise, non modo doctrinas mafeseos, sed multas alias, settamen, hoc non impedit, cominus, homines, fortasse minus eruditi, settamen, per quasdambias compendiarias, per quasdambias delectabiles, quae sintetiam, fortasse sumptae, ab studis humanitatis, quasi destaquadam lingua, aliquomodo, faciliore, atque magis propinqua, ominibus, posint, lumina, scientiae naturalis, quasi, preponi, omnibus, et hoc lumen, cultus et humanitatis nostrae, posit etiam, sum delectabilissimum fructum, omnibus, omnibus, propagare, atque in animus hominum penetrare, it aut homines intelegant, non esse neque timendum, neque diffidendum, sed immo esse adendum studium, scientiarium naturalium, ad humanitatem perficiendam, sicud fecerunt sane plerumque egregi scientifici, et antea, et nunc, et sicud etiam, nobis pulcrum, et egregium, exemplum, proposit modo, professor Parisi. Qui, queso, plaudatis iterum, propter suam orationem, et gratias agamus.